Buona giornata a tutti, il Chiu Balla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo del Studi Politeistico, la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Ormai stiamo avviando verso la fine del nono anno di trasmissioni, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo del Studi Politeistico, Casalapostale 53, Marostica, Vicenza. Stiamo avviando verso il nono anno di trasmissioni e naturalmente sempre ringraziando questa radio ci ha dato questo spazio che speriamo di aver onorato nel miglior dei modi possibile. Questa trasmissione, di cui parliamo un po' a braccio, diciamo così, da varie cose che ci sono, che sono in giro, sarà incentrata molto, molto, molto sull'attualità, ma anche su quello che Francesco interessa moltissimo ed è la festa di Veneti di domenica. Francesco ci ha già partecipato l'anno scorso, è entusiasta, io un po' meno, sapete che queste cose, però naturalmente siamo due persone diverse che collaborano e giustamente Francesco ci tiene molto alla festa di Veneti, ci mette molto impegno sia fisico che psichico e culturale, per cui è giusto lasciare un po' lo spazio a queste cose. Pertanto io interverrò poco, che poi non è vero, perché sapete che non è un inquarente, e lascio la parola a Francesco intanto per cominciare con questo. Comunque ricordo sempre che sabato 24 settembre Francesco sarà impegnato a organizzare il rito dell'equinozio d'autunno presso il Bosco Sacro di Jesolo. Bene, allora partiamo con le molti appuntamenti, le molte cose che ci siamo ripromessi e stiamo affrontando. Logicamente l'impegno più vicino, che logicamente non è un'iniziativa nostra, ma è una lodevole iniziativa di Reise Venete, è la festa dei Veneti che si tiene a cittadella il 4 settembre che è domenica. La festa appunto comincia, beh, premesso che il venerdì sera per chi vuole, alle ore 20 e 30 a Torre Malta c'è un convegno sulla lingua veneta, con anche il Presidente Sabino Acquaviva, penso che chi vuole partecipare anche al convegno di venerdì sera può anche partecipare, può essere presente. Noi ci saremo e porteremo e esporremo a Torre Malta anche lo standardo della Dea Reite che poi sfilerà anche domenica. Allora, per chi è interessato a questa tematica particolare della lingua veneta, appunto può partecipare a questo convegno serale di venerdì alle ore 20 a Torre Malta cittadella. Ma l'evento che per me è più importante è appunto quello che avviene domenica, domenica 4 settembre 2005 a Cittadella, che è la festa dei Veneti. Giustamente qui di Reise Veneti sottolineo che è una festa puramente culturale, cioè non è una festa politica, di schieramento, ideologica, ma è una cosa che fa con la cultura, cioè con quello che si coltiva e con quello che si è. E effettivamente io molte volte noto che non siamo sensibili al richiamo della terra. Nice direbbe vi invito a essere fedeli allo spirito della terra. E in un certo senso la nostra presenza a questa festa è dettata anche da questo invito di Nice di rimanere fedeli allo spirito della terra, ad ogni terra, ad ogni luogo che ci è caro in cui viviamo. Allora, la festa parte domenica 4 settembre alle ore 10 e prosegue fino a tarda sera. Logicamente è un contenitore molto eterogeneo, ci sono moltissime cose. Quello che non ci interessa di più di tutto al di là è la manifestazione, cioè nel senso che alle ore 16 parte una manifestazione in cui tutti quanti possono partecipare, in cui non sono discriminazioni, in cui è aperta, a cui tutti possono dare il loro contributo, possono portare i loro bandieri, i loro standardi e si sfida intorno alla Cittadella. Noi lo scorso anno abbiamo partecipato appunto in un piccolo gruppo con due standardi della Dea Reitia a questa manifestazione, proprio perché volevamo ricordare che appunto la cultura del Veneto è anche una cultura religiosa che viene molto da antico, che viene dal passato, che ha dei ritaggi enormi. D'altronde, se noi fossimo più attenti al nostro territorio, alla memoria archeologica che esiste, sapremo che la nostra ricchezza è una ricchezza di migliaia di anni e che non è certo stata esaltata da una religione sorta nei bassi fondi della Galilea. E ora noi a un punto volevamo ricordare che questa visione religiosa, questo pantheon degli antichi veneti, che era un pantheon ampio, ricco, folto di dei, in cui, da quello che noi sappiamo, c'era una divinità che era capostituta e che era Reitia. E ora noi abbiamo scelto appunto Reitia, visto che è anche la Dea più conosciuta degli antichi veneti, e la portiamo appunto in sfilata con due standardi, proprio perché vogliamo ricordare che era essere attaccati alla propria terra, al proprio luogo, al proprio pagus, per usare un termine pagano, e proprio richiamarsi anche le divinità del nostro posto. E noi abbiamo seguito Reitia, è una divinità importante perché aveva una caratteristica che la distingueva da altre molte divinità presenti nello spazio italiano, che era la divinità della scrittura, ma non era la divinità che offriva e imponeva testi sacri, che chiamava sui monti, che dava le tavole dei comandamenti, ma che insegnava agli uomini, nei suoi tempi, a scrivere. Non aveva messaggi, verità, obbedienze da chiedere, non aveva predicazioni, non aveva aforismi, ma insegnava una tecnica. Ed era sacra questa tecnica. Le persone che facevano dei sacrifici, delle offerte a Reitia, regalavano gli strumenti per scrivere, proprio perché, contrecambiavano con l'oggetto che potevano scrivere, l'aver appreso l'arte della scrittura. E questo è significativo che questa divinità avesse questo intento nell'insegnare agli uomini la tecnica per comunicare. Purtroppo il monoteismo ha fatto perdere agli uomini la capacità di comunicare, di comunicare sia fra se stessi sia con gli altri. E sia col divino. Reitia ci ricorda proprio questa, la capacità di saper comunicare, di saper entrare in contatto. D'altronde, moltissimi hanno trovato delle assonanze con Reitia come la divinità che separa un confine, che separa un limes, per usare un termine classico. Cioè, praticamente, è un confine tra quello che è civile e tra quello che è selvaggio. Non che sia una barriera, ma che segnala uno spazio ben preciso. D'altronde, questo attaccamento agli spazi sacri l'abbiamo anche nel culto di Reitia. A parte i pochi santuali che ci sono prevenuti, normalmente i Veneti facevano dei santuali con legno e tessuto. Cioè, praticamente, non creavano una separazione netta con l'almente circostante, ma utilizzavano l'ambiente. Ma Reitia proprio è anche una divinità, soprattutto civile, della città, in quanto nel suo santuario, appunto, nel comunicare l'arte dello scrivere, esisteva un collegio sacerdotale. E mai nessuno di chi ha imparato a scrivere si è sentito meno, inferiore, incapace, perché andava in un santuario ad apprendere. E mai i sacerdoti che erano presenti, o le sacerdotesse erano presenti, di questo loro compito si ne facevano vanto, o lo usavano per imporsi, o per avere dei comportamenti impositivi. E soprattutto quello che interessava era che le persone avessero l'autonomia nel saper scrivere. Allora, per ricordare appunto questo, noi utilizziamo per Reitia, proprio perché Reitia ci permette di avere questo ricordo con la nostra cultura, che è quello di saper comunicare, e soprattutto di ricordare che abbiamo una cultura, che abbiamo un ambiente, che abbiamo una storia. Il fatto stesso è che Reitia fosse considerata la divinità del confine, ma era il confine anche tra lo spazio urbanizzato e lo spazio selvaggio. Ma implicava anche che questo spazio, questo confine, si sapeva anche utilizzarlo, si sapeva domesticarlo, si sapeva utilizzarlo, ma si sapeva anche non sfruttare. Era appunto la capacità di fare esistere, di creare un equilibrio. D'altronde molti di questi templi venivano costruiti su argini, e che implicava una capacità di conoscenza del territorio ben diversa rispetto alla devastazione del territorio che stiamo assistendo. Il fatto stesso che ci fosse una separazione tra centro abitato e quello che era fuori, quello che poteva essere il selvaggio, l'abbandonato, l'esterno, implica anche che noi dovremmo ricordarci, quando noi guardiamo il nostro territorio, lo vediamo cancellato, modificato, alterato, ad esempio dai Cappannoni, in cui non c'è più una distanza tra la campagna e la città, in cui non esistono più spazi verdi, ma in realtà è tutto quanto un grande centro urbano, costruito anche male. E' proprio per ricordare che anche l'attenzione verso l'ambiente è un'attenzione religiosa, cioè nel senso che religione non è quello che il monoteismo insegna, cioè sottomissione, ma religione è qualcosa che lega, cioè che lega la comunità. E d'altronde Reitia, come altre divinità tipo Artemide, sono le divinità che accompagnano i bambini, i ragazzi dall'età infantile, della fanciullezza, ad essere adulti, ad entrare ad essere dei cittadini. E anche questo era lo scopo che avevano tutti quanti i santuari, proprio perché permetteva il transito, permetteva l'introduzione delle cose. E questo è opportuno ricordarlo, è essenziale farlo. Francesco, come al solito l'invadente arriva. Sì, ma c'è un problema, dai. Quando si parla di adolescenza, di proteggere la situazione adolescenziale, di curare i ragazzi che crescano, e non lo stiamo dicendo semplicemente noi perché vogliamo separare quello che è le antiche religioni da quello che è il monoteismo, ma è proprio la ricerca scientifica. La ricerca scientifica, la pedagogia moderna, la psicologia moderna, io vi invito a leggervi l'articolo della Repubblica del 30 agosto 2005, cioè di due giorni fa, che gli adolescenti vanno seguiti, vanno seguiti con grande attenzione ad opera degli adulti, e vanno seguiti proprio da adulti che sappiano vivere con impegno, con passione, con relazione, col divino che hanno attorno. Perché se questo non avviene, gli adolescenti sono come dei popanti, i teenager sono come dei neonati. Perché? Perché vi abbiamo detto che nell'età educazionale, nell'età puberale, in realtà muore il ragazzo e nasce l'adulto. E gli antichi, tutte le popolazioni antiche, noi parliamo di Veneti in questo momento, perché Eretia è il punto in cui Francesco sta trattando, avevano grande cura proprio di questa fase, di questa età, proprio per introdurre i ragazzi e le ragazze nell'età adulta, cioè far diventare dei cittadini, dei soggetti sociali capaci di prendersi nella propria mani la responsabilità della propria vita. Mi sembra che ci sia stato uno scrittore, Moro, che abbia scritto proprio un libro su questo. Sì, La Voce della Dea. Esatto, ha scritto proprio La Voce della Dea, proprio sul fatto che degli adolescenti sono presi in mano la responsabilità della loro esistenza. Ed è fondamentale tutto questo, non so se potesse succedere oggi una cosa del genere, con degli adolescenti capaci di prendere delle decisioni così grosse, diciamo così, nella loro esistenza. Forse dal terzo mondo, ma non certo per l'educazione che il monoteismo impone sui ragazzi qui in Italia. Sì, si sarebbe detto a dire, quasi sai, più reitia meno sacristia. Guarda, se vuoi sottoscrivo dove devo firmare. No, no, ma è parte fatta vero, insomma. Sì, è proprio importante, proprio perché la reitia stessa, come è stata paragonata appunto con l'Artemide, proprio perché proteggeva i ragazzi che entravano nella società, cioè nel senso che era un nome tutelare di questi ragazzi e poi permetteva e favoriva la loro introduzione nella società e tutelava i loro diritti e li garantiva nei diritti dei cittadini. Proprio perché segnava per questo confine tra cui uno è un ragazzo e quando uno diventa cittadino. E proprio reitia, noi utilizziamo questa immagine, ci è anche proprio piaciuta, perché ha una ricchezza enorme, cioè tra l'altro è una ricchezza che noi conosciamo marginalmente rispetto alla grandezza sua, perché stiamo assistendo sempre di più a scoperte archeologiche che poi tra l'altro fanno clamore quando escono, perché danno fastidio, vengono, fate sparire o vengono cancellate. Faccio un inciso per dare un'idea. Sono stato quest'estate a vedere la necropoli di Spina, il? La necropoli di Spina e la necropoli di Spina non esiste più perché l'hanno completamente interrata e non esiste più neanche un'indicazione stradale, neanche un cippo, neanche un pezzo di indicazione o di cartello che dica qui c'è la necropoli di Spina. Cioè nel senso che voi andate nelle varie di Comarchio a cercarvi la necropoli di Spina e non trovate niente. Sono dieci anni che è interrata. Io pensavo di un luogo così importante dal punto di vista archeologico vale che ha una valenza che è importantissima. In realtà non esiste neanche un cartello piccolissimo che dica qui c'era la necropoli di Spina completamente sparita, completamente orientata, c'è solo campagna. Io ho girato per delle ore, ho individuato il posto, grazie a tutta la cartografia che avevo dietro, però un luogo che è così importante, si fosse trovato un presunto chiodo della croce sicuramente si avrebbero fatto una basilica. Indubbiamente, guarda, indubbiamente. Sì, anche poche, voi pensate qua basterebbe soltanto qualche qualsiasi cavolata che sia cristiana e verrebbe esaltata. Una necropoli che dimostra che come migliaia di anni fa ci fossero delle popolazioni capaci di avere una comunità, di avere un culto per i morti perché dipingono sempre gli antichi come dei selvaggi, sai, come i casi selvaggi con l'anello al naso, in realtà avevano delle civiltà enormi. Pensavo anche alla civiltà veneta, la civiltà veneta è completamente trascurata, esistono pochi musei. Io ho fatto una trasmissione alcuni anni fa quando fu ritrovata la mummia del Similaun dove praticamente ho parlato di vari oggetti che erano addosso a questa mummia e l'archeologia moderna ha capito una cosa, che se c'è una pietra quadrata non c'è solo un sasso quadrato ma significa che c'erano degli uomini che lo hanno fatto, degli uomini che avevano la tecnologia per farlo, degli uomini che avevano degli intenti per farlo, per cui avevano una cultura per farlo, avevano delle finalità per cui lo facevano, cioè l'archeologia moderna non è più come l'archeologia di vent'anni fa e sto parlando di tempi recenti vent'anni fa e non sto parlando del dove praticamente si raccoglievano questi sassi, un po' particolari adesso si riesce a capire che esiste tutto un insieme che li ha generati e in realtà la cultura quella che noi chiamiamo cultura veneta quella che va attorno a 1000 fino all'800 avanti Cristo cioè fino all'avvento degli Etruschi e l'avvento di tutte le varie civiltà fino all'avvento di Roma cioè perché lo stesso Brenno praticamente quando arriva a Roma viene fermato dai Veneti fra le altre cose ciò che poco si dice e questa civiltà non è nata da sola cioè non è al di fuori ma è all'interno di tutto un processo di trasformazione dell'Europa che vede dalla costruzione di Stonehenge da civiltà antichissime che poi si sovrappongono ad altre si sedimentano su altre finché abbiamo quella grandissima civiltà che è la civiltà dei Nuraghi che è la civiltà sarda che praticamente a un certo punto conquista tutto il Mediterraneo conquista anche l'Egitto e sono per esempio i famosi filistei della Bibbia cioè praticamente questa civiltà è che poi con un cataclisma che è ben conosciuto ormai è registrato fa sparire questa civiltà taglia le rotte e le trasforma però nel frattempo cosa succede? Siete che questa civiltà ha dato il suo all'Egitto ha dato il suo ai Fenici ha dato il suo alla nascita della Grecia ma questa civiltà da dove viene collegata? è collegata a tutta la civiltà europea a tutte quelle che sono le grandi immigrazioni a tutte quelle che sono i ritrovamenti di 5, 6, 7 mila anni fa c'è un disco per esempio che è stato trovato nella Germania dell'Eist che testimonia non solo la conoscenza delle pleiadi delle fasi lunari del collegamento sole, luna e eclissi ma addirittura su questo disco c'è la settima playa la cosiddetta playa de perduta perché adesso sono 6, 7 sono noi dati qui sotto per cui sto parlando un po' a braccio qualche errore li faccio anche con la mia memoria c'è questa playa de perduta che è possibile vederla solo col telescopio e che invece era registrata su quel disco esiste tutta una serie di situazioni che sono molto particolari si sta scoprendo tutto un universo per esempio faccio un esempio a caso tanto per passare di pala in frasca c'è un'immagine dei celti in cui c'è una divinità che prende un bambino e lo mette nel calderone è un'immagine in realtà i romani quando arrivarono la interpretarono in un certo modo quella immagine cioè i sacrifici umani dei celti e invece leggendo le leggende intanzitutto non si tratta di un calderone ma si tratta di una botte e una botte d'acqua e c'è la divinità che deve far sbollire un dio ragazzino della sua rabbia prima che combina guai e quell'immagine è relativa proprio a quel tipo di leggende che è fondamentale proprio nelle tradizioni celtiche naturalmente è uno che ha perso le tradizioni cioè che ha perso le leggende che non sa cosa significa vede l'immagine cosa pensa i romani per la loro propaganda i monoteisti per la loro propaganda e gli altri facevano sacrifici umani quello è un classico beh d'altronde sai hai ricordato quell'articolo che è uscito qualche settimana fa sul tribune di Trevisio in cui la responsabile del museo di Est diceva abbiamo capito soltanto adesso che i veneti non facevano sacrifici umani insomma e oltretutto ricordatevi che i veneti erano all'interno cioè parlo della civiltà veneta dal 1300 a.C. era all'interno di tutto un circuito di civiltà tant'è che i cavalli veneti venivano esportati e correvano ad Atene cioè facevano le gare perché una volta si giocava adesso un po' meno adesso ti fanno pagare tutto per cui correvano ad Atene i cavalli veneti erano ambiti dai siracusani stiamo parlando di Siracusa che è come non so se parlassimo di New York adesso allora Siracusa aveva quel ruolo all'interno della Magna Grecia per cui c'erano tutti questi traffici che erano fondamentali che erano importantissimi cioè noi non abbiamo i veneti dei trogloditi ma abbiamo i veneti all'interno di tutta una serie di civiltà che avvengono perché abbiamo i Piceni abbiamo tutta una serie di Sanniti abbiamo gli Etruschi che poi sono fondamentali abbiamo tutta una serie di civiltà che entrano in relazione fra loro che commerciano che scambiano cultura basta pensare ad esempio anche alla recente scoperta di Badia Polesini in cui hanno trovato una necropoli del Neolitico e ha detto questa scoperta è enorme perché non abbiamo mai trovato un centro abitato così grande e dovremmo riscrivere la storia fatalità ha voluto che lei dovesse fare dei lavori sul canale è venuta a fare una necropoli che cambia la storia cioè basta pensare a quello che è successo ad esempio intanto per dire lo scorso anno che hanno trovato sull'Alpago una laminetta in cui si parlava di conoscenze che non si pensava che ci fossero il che significa che hanno proiettato per interesse per volontà sul passato di tutti i popoli che non erano cristiani delle menzogne delle calunie delle falsità ed è proprio una pratica che hanno fatto con tutte le culture noi del Veneto proprio perché avendo avuto una cristianizzazione forzata perché ricordiamo che uno dei miti delle menzogne anzi con cui è stato cristianizzato ad esempio la distruzione del tempio sul monte sumano in cui appunto un santo inventato distrugge un tempio si beh quel santo inventato ha inventato la distruzione di centinaia di templi cioè ha distrutto tempi un po' dappertutto per cui sì però però al di là che non ha fatto il santo sicuramente qualche buon cristiano è andato a distruzione del tempio anche perché ormai si sta scoprendo tutta una serie di iscrizioni cioè tutta una serie di resti che fanno comprendere quanto era diffusa l'antica religiosità capito cioè ormai si cioè si studia ogni sasso praticamente sì allora appunto per tutti questi motivi visto che la festa del 4 settembre è una festa culturale visto che appunto è importante ricordarmi a questo ospettore religioso noi domenica saremo presenti in piazza alla manifestazione parteciperemo appunto alla manifestazione con i nostri stendati la Dea Reitia chi vuole sfilare con noi può venire ben accolto non c'è problema chi vuole sfilare nella manifestazione con altri gruppi che saranno presenti perché ricordo che lo scorso anno la festa ha avuto un successo enorme perché si parla di oltre mille persone che hanno sfilato e di 10.000 visitatori nell'arco della giornata perciò è stato anche un evento molto importante di fatti ho notato che quest'anno anche i giornali hanno una maggiore attenzione all'iniziativa a quello che verrà fatto a quello che verrà detto perché mi risulta che sono stati già 3-4 articoli sui vari quotidiani locali che qualche tradizione locale comincia a parlarne proprio perché è un evento importante soprattutto perché è un evento culturale cioè nel senso è un evento che non divide ma che unisce noi siamo ben contenti che questi eventi esistano ci siano noi invitiamo gli ascoltatori a essere presenti anche perché sarà presente ad esempio molte persone che sono legate a questa radio che molti ascoltatori conoscono ad esempio ci saranno nel pomeriggio dopo la manifestazione c'è una serie di concerti a cui chiuderà la festa Erma Medrano che gli ascoltatori conoscono benissimo insomma molto conosciuti in questa radio però appunto noi diamo il nostro contributo proprio ricordando che esiste anche un Veneto che ha oltre che una cultura ha anche una religione e che questa religione ha permesso al Veneto di diventare grande logicamente è un richiamasse ai propri radici ai propri luoghi e per questo non è importante ricordare questo facciamo il 4 di settembre saremo a Cittadella appunto con la Dea Reiti e con i sistendardi chi pensa che sia giusto a che ora parte la manifestazione Francesco? Allora la festa dei venti comincia alle ore 10 della mattina perciò ci saranno già banchetti cose varie noi arriveremo lì la manifestazione comincia alle 4 del pomeriggio alle ore 16 noi arriveremo lì appunto alle 16 ci metteremo nel corteo poi logicamente dove capiteremo capiteremo cioè nel senso che non ci deve essere negli esseri primi negli ultimi nel mezzo ma a noi ci interessa sfilare ricordare questo chi vuole ci riconoscerà sicuramente perché con due standard della Dea Reiti saremo ben riconoscibili e chi vorrà sfilare con noi potrà sfilarlo il giro non è tutto il muro di Cittadella praticamente si parte per intendersi da Borgo Treviso se verso Borgo Bassano si entra in tutto il corso principale di Cittadella e si esce a Borgo Padova si torna verso Borgo Treviso che è il luogo dove si fa la festa io qui ho un appunto del gazzettino del 30 agosto 2005 che dice Cittadella festa di Veneti che è un trafiletto festa di Veneti domenica 4 settembre dalle 10 alle 22 a Cittadella Padova il momento clou alle 16.30 quando il corteo si in corteo si attraverserà il paese prevista la distribuzione di 20.000 cartoline da inviare a Galan per riconoscimento della lingua veneta annunciati musica stand enogastronomici e culturali noi siamo presenti con la manifestazione di manifestare di portare fuori di fare emergere di ricordare faremo questo io do appuntamento con chi vuole sfilare con Reitia e chi vuole partecipare a questo evento domenica 4 settembre Cittadella Padova bene penso che abbiamo presentato più che bene lo ricorderemo anche in chiusura appunto questa festa che è importante è la seconda edizione ed è una festa che io avendo vissuto lo scorso anno vi posso garantire che è una festa che merita insomma perciò c'è anche la possibilità di conoscerci di parlare di vedere e soprattutto sfilare per chi vuole con la Dea Reitia io invito tutti quanti gli ascoltatori a essere presenti chi con noi chi con Reis Event chi per se stesso ma chi soprattutto per ricordare le proprie radice insomma che cosa è importante e il 24 settembre presso il Bosco Sacro di Ieso Francesco ci organizza il rito del equinozio d'ottunno quanti impegni quanti impegni vero Francesco sì ecco una cosa che io voglio anche aggiungere sì vai ti ho visto appunto allora parlo della festa in occasione così di ricordare le nostre radici le nostre sacre radici è stata lanciata dal gruppo la situazione per sacre radici che è collegata all'istituto una petizione al sindaco di Padova io se Claudio non ha problemi leggerai la petizione perché vai tranquillo allora la petizione è indirizzata al sindaco di Padova alla giunta comunale ai consiglieri comunali alla sovrattendenza dei beni artisti e storici e al ministrato per i beni culturali dei beni e attività culturali ed è una petizione che si può firmare appunto anche virtualmente su internet caso mai se voi trovate qualche informazione riuscite a recuperarla la cosa più semplice è andare sul sito che è http2.it.geocits.com barra sacre radici e lì c'è il link alla petizione virtuale vi leggo questo testo che è un testo che reputo semplice ma che dà un'indicazione di quanto sia importante anche fare questa campagna di sensibilizzazione verso le istituzioni per ricordare le nostre radici dice la petizione attraverso la stampa abbiamo notizia di sempre nuove scoperte ecologiche nella città di Padova tutti i ritrovamenti documentano la presenza di antichi culti religiosi per cristiani non ci sembra che la memoria di questi antichi culti che rappresentano le nostre autentiche radici siano ricordate in modo più adeguato non vi sono indicazioni che permettono di individuare agevolmente questi sacri siti non è nostra intenzione intervenire presso di lei con proteste che sarebbero peraltro del tutto legittime ancorché sterili intendiamo invece quella presente invitarla formalmente ma fermamente a porre fine a quello che consideriamo un vero e proprio insulto alla memoria dei nostri antichi padri le nostre radici sono in antichi culti e nella memoria delle divinità venerate dagli antichi eventi chiediamo che il luogo dove si compiono questi antichi riti siano indicati nella segnaletica stradale che venga posta particolare attenzione alla topomastica che i toponomi utilizzati siano le stesse delle nostre antiche radici che si intraprendono una meticolosa campagna di scavi ecologici con particolare riferimento alla zona su cui sorge l'attuale basilica del santo perché si renda visibile e tangibile traccia del tempio della Dea Reitia situato sotto la basilica del santo Antonio proponiamo che a ogni ingresso del santuario venga apposta l'indicazione che ricordi l'istenza del tempio della Dea Reitia reputiamo necessario in particolar modo che il primo e più urgente intervento debba svolgere nella zona demoniata basilica del santo la figura di santo Antonio da noi non è ritenuta adeguata a rappresentare la città di Padova è sufficiente ricordare la sua partecipazione alla crociata contro i catri che portò al loro completo sterminio su santo Antonio studiosi cattolici hanno scritto e qui è la citazione presa dal libro le bugie della chiesa aperte virgolette la bugia più popolare riguardo santo Antonio è quella di falce dispensatore di miracoli con santo Antonio i dubbi sono pochi la fantasia popolare ha dato il meglio di sé ma soprattutto Antonio non è mai stato il giovane del sorriso melenso con accanto un canito giglio ma dove è quando è nata l'immagine di storia di santo Antonio postulatori scrittori e biografi si sentirono autorizzati a gonfiare la realtà dei serviti di Dio non soltanto di santo Antonio di Padova quindi chiusa la citazione una città non può porre al centro della sua storia un personaggio con meriti inventati e violenze riconosciute riteniamo la richiesta così come sopraformulata più che ragionevole pensiamo che almeno nei termini indicati costituisca nei confronti dei nostri avi il minimo doveroso e degnitoso tributo dovuto a loro certi di poter contare sulla sua attenzione di pubblico amministratore oltre che sulla sensibilità personale confidiamo il suo attivo interessamento e intervento attentiamo notizie rispetto a quanto sovraesposto e le salutiamo distintamente perciò questa è una petizione che si può firmare virtualmente su internet trovate già delle indicazioni chiare ed è importante proprio che anche con questo semplice fatto di sottoscrivere un qualcosa sia possibile recuperare le nostre radici logicamente poi lasceremo delle copie quando saranno pronte anche qui in radio che ci permettono proprio di di avere un'idea che questa petizione deve girare deve informare anche perché sappiamo che Sant'Antonio è stato uno dei mostri nella storia ci sono stati tantissimi nella chiesa cattolica ma Sant'Antonio è venerato e considerato bene in realtà ha partecipato alla cancellazione dei catari proprio dalla storia della vita umana del mondo ed è considerato un grande santo e io voglio ricordare che Sant'Antonio è considerato dalle biografie fatte ufficiali dalla chiesa cattolica come il martello degli eretici e che non è certo ma c'è là il terrorista degli eretici in pratica un terrorista criminale e che fu inviato a fare il martello degli eretici in Occitania su un incarico di San Francesco altro santo che si viene dipinto come buono generoso disponibile attento preciso in realtà anche lui un'immagine costruita d'arte non esiste nessuna biografia che non sia quella scritta appositamente della chiesa cattolica hanno bruciato tutto probabilmente in Vaticano a qualche parte c'è qualcosa insomma ci ritengono in realtà alcune cosette possono sempre venire buone c'è un libro che non ho ancora fatto tempo a recuperare che si chiama Verbum Dei Verbum Gay fatto da una casa di trice di Roma in cui dice che esistono dei documenti in cui si racconta che San Francesco si sposò con un uomo con una particolare messa non so più in quale chiesa cioè è un libro che mi hanno riportato questo esempio devo ancora recuperare il libro però dimostra che qualcosa di San Francesco appunto non quadra cioè nel senso che non è certo quello che hanno dipinto e ci hanno rappresentato anche da quello che però ci hanno dipinto rappresentato e ha scritto capiamo che non è certo uno spirito nobile uno spirito interessante da seguire ricordo che una petizione del genere legata al riconoscimento dei luoghi si inserisce completamente all'interno della risoluzione ottenuta dal Vucer ad Anversa a questo giugno la risoluzione del Vucer di Anversa che parla sia di protezione dei luoghi sacri sia della concessione degli antichi luoghi affinché i pagani dei vari paesi possano celebrare i loro riti possono celebrare le loro cerimonie è all'interno di quella mozione quella mozione è già stata presentata quanto ne so intanto è stata firmata da tutte le delegazioni del mondo cioè è una delegazione dal Sud America delegazione dagli Stati Uniti delegazione dall'Inghilterra delegazione dalla Francia dalla Germania dalla Lituania dalla Lettonia dalla Grecia dall'Italia dall'India e dalla Russia credo però non ne sono sicuro perché a memoria magari non è che riesco a ricordare tutti quelli che c'erano e tutti questi riuniti ad Anversa hanno presentato la mozione per il riconoscimento dei luoghi e la concessione dei luoghi antichi ai pagani affinché possono fare i loro culti e siano segnalati questi luoghi è stata consegnata sia al Parlamento belga che al Parlamento europeo pertanto le mozioni in realtà stanno già girando e penso che sia arrivata anche all'ONU poi ne parlerò con l'ONU sentiremo cosa è stato fatto e comunque è stata firmata da tutti i partecipanti e vi ricordo che la delegazione italiana oltretutto ad Anversa era una delle più numerose numericamente anche se in effetti i greci hanno portato non so quante centinaia di persone sotto ai piedi del Monte Olimpo per celebrare Prometeo per cui chiaramente non siamo gli italiani non sono i più forti a livello europeo come organizzazione pagana sono quelli che sono chiaramente però diciamo così abbiamo avuto il nostro peso e il nostro intervento grazie a chi sapeva bene l'inglese naturalmente non certo io io ho soltanto assistito e ho lavorato più che altro dal punto di vista ideologico religioso altri invece sono fatti il mazzo anche linguisticamente un vero mazzo pertanto una mozione del genere rientra all'interno di quello che sono le risoluzioni del VCR e vi ricordo che in tutta Europa tutti i gruppi che sono parecchie decine di migliaia di persone stanno lavorando in quella direzione pertanto non facciamo altro che continuare ciò che fanno i belgi ciò che fanno i francesi ciò che fanno i danesi ah c'erano anche i danesi mi sono dimenticato ciò che fanno i tedeschi ciò che fanno altri una sola una sola perplessità su questo punto è venuto ad opera del gruppo tedesco di Eldaring perché il gruppo tedesco di Eldaring ha detto noi in Germania purtroppo abbiamo avuto dei brutti fatti cioè dei brutti avvenimenti nel senso che alcuni hanno ottenuto di agire all'interno dei luoghi sacri antichi alcuni gruppi che si chiamavano pagani e li hanno seriamente danneggiati per cui loro mantenevano questo tipo di perplessità proprio in base alla loro storia e a ciò che era avvenuto nel loro paese e questa era l'unica perplessità che è stata lanciata però anche loro erano d'accordo insomma su questo chiaramente essere d'accordo su questo non significa far del male o danneggiare ciò che è la nostra storia antica e loro a questo ci tenevano ecco questo volevo dire sì beh Claudio visto che abbiamo affrontato queste cose penso che possiamo venire all'attualità le cose più divertenti va beh dai chiudiamo un po' questo che d'altronde è storia cioè va beh domenica sarai impegnato come non mai va beh Francesco fa parte della nostra vita e del nostro esporsi vai Francesco ecco io vorrei partire appunto dal fatto di attualità che è una cosa abbastanza divertente e curiosa molti di voi conosciamo l'avvenire l'avvenire appunto è il quotidiano della conferenza episcopale italiana l'avvenire l'avvenire